Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema di mascarpone al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Ingredienti sono panna fresca per dolci, mascarpone, zucchero, caffè ristretto freddo e caffè solubile. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale il caffè solubile e lo zucchero. E accendiamo il billy per 20 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, posizionare la farfalla sulle lame. Mettere 40 grammi dello zucchero a velo che avevamo precedentemente messo da parte. Aggiungere la panna. E facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5. fermiamo il bimbi. La panna è ben montata. Mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale abbiamo tolto la farfalla. Aggiungiamo lo zucchero a velo che è rimasto. il caffè ristretto che deve essere molto freddo. E il mascarpone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 40 secondi. a velocità 3. Trasferire nella ciotola con la panna. Amalgamare delicatamente. Trasferire in frigo per almeno 30 minuti e lasciamola rassodare prima dell'uso. crema di mascarpone al caffè. Ideale per farcire torte, bignè, crostate o come dolce al cucchiaio. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. Grazie e alla prossima. Grazie. Grazie a tutti.